e allora parentesi star chiusa con la vittoria di James 1 a 0 sul river con un uomo in meno tutta la partita di 5 contro 6 hanno vinto 1 a 0 per Bolimbo il mistero Rabona che a seguire giocherà il suo personalissimo derby contro il Santos vince il Benevengo 7 a 2 contro il Napoli distruggendo ogni speranza o quasi di un sorpasso in classifica da parte degli azzurri in campo ora ritorna alla Gold League e c'è un match molto interessante perché il Partizan vigila perché il Crystal ha perso ancora e ha perso contro il Corinthians che ora è a meno 3 dalla vetta il Crystal Milinkovic e allora la classifica di Gold intanto conclusione di Scandurra Crystal a 22 dopo 12 partite il Partizan a 18 dopo 10 sale a 19 in 11 la formazione proprio del Corinthians rimane a 18 punti in 9 partite il Ciaccarella il Lampedusa a 12 punti in 10 partite era al secondo posto poi entrata in una crisi oscurissima vero Rossi da quanto tempo perdono 3 settimane consecutive giusto servono punti per ritornare alla carica Champions comunque non vorrei dire e allora Lampedusa con Varchetta scuola Patetico Madrid scuola Mistero D'Abbona Cagliazza Martone Martone il doppio Martone è in difesa del Lampedusa centrocampo con Russo nuovo acquisto Ciaba avanti Scandurra quindi assenti Flores e Castillo il Partizan con Catalano Marigliano Famà a destra Castrovinci cosa? C'è Famo e Famà Mister Smetti Romeo e all'inoro al centrocampo Campesi avanti non c'è manna e sì non c'è manna sta giubetta eh quando entra dopo è fondata cioè ti fa occhio occhio perché parte capitano all'inoro travedi l'arma basso è un avvicinato Flores ma io Martone intanto lanciamo vota chi passa tra Real Madrid e PSG nel 5o di finale di Champions il capitano non arriva Scandurra deviazione c'è fallo faccio o faccio vabbè sì perché poi là le difese Frate è forte Timo Werner Werner ma sono tutti della che ita sono tutti quanti della della prima occhio di punta ha finito la voce ma che è finita si definisce al 100 punti tutto sponsorizzato dalla Red Bull si va buono con lo charter c'è stato il biscottore del mare barchetta per ciaba controllo ma forse chi ti dice che il City non ha con quella partita non si ha prelevata un Marlos un ragazzino un Tyson parte destro biscottone biscottone no Fred ha capito che Parigi ma Pier 2-0 Tyson Fred Bernard Marlos e chi? e basta Stefanenko è vecchiarito occhio a lancio Russo col destro Russo la finta cerca il passaggio campese la sterzata fama tutto solo barchetta attenzione con un po' di scena barchetta è morto si è spostato 1-0 capitana all'inoro per il partizan ma barchetta l'ha letta si è spostato non tiene centrale 1-0 1-0 partizan che vuole provare il colpaccio della serata attenzione Ciaba non è uscito il pallone ovvero quello di andare a meno uno con una partita in meno dal cristal palla dentro Martone fama esce Luca Martone perché non volevo volevo giocare tornavo e mi fischi passavo sempre tipo Pato mi sono sentito Pato locca all'inoro prova a pescare il jolly barchetta chi? mi sono rito io schifo troppo chi? ma la sembra vado le parti perché il Venemento se le vende perché fa sempre questo Martone non passa Campese Castrovinci ha battuto Campese io godo lo sai godo troppo perché Vigorito è un pezzo di meno Campese fa il giro del campo Vigorito sembra un'avola parla un'isciazza scandurra dialoga con Russo va Ciaba con le mani sale anche Martone vuole il pallone Martone cagliazza calcia Martone controllo finta sbaglia cagliazza che primo l'ha sbagliato io speravo nel passo falso la Juve a Bologna ma si è scansato la Juventus occhia pallone dentro arriva Luca Martone Ciaba sbaglia Fabio Martone col tacco cavallo mamma mia mamma mia mamma mia Ciaba troppe sei mi sei esagerato mille euro Campese Marchetta calciotana Juventus non può perdere una di partite pareggerà ma non col bollino Juve e Roma ma ce l'ha detto il pallone sì secondo me la Juve stra vince arriva Castro vince parte il lancio russo controllo punta eh fuori casa col crotone sto sorrentino ciao po' porco di più non ha preso 40 non so la Roma piglia ad 8 8 più 1 a 9 non ce l'avevo eh grazie ti dimostra la coscia tre gol sui tengo cerci schifo vorini 8 quant'è si da fantasia 8 io l'ho pagato 69 perché noi l'abbiamo fatta a lista tornate a poste chiuse no no a lista nel senso scandurra tutti quanti hanno già completato pochi al tunnel di russo va giù punizione parte la punta e c'è la parata poi rinvio ciaba lascia scorrere sempre solo 1 a 0 bloccato all'inoro romeo castrovinci 1 2 famà ha segnato il diavolo famà 2 a 0 cosa sta facendo diavolato adesso ti amo no non ci credo prova a scandurra 2 a 0 campese resiste la frate nelle piccole fa bene poi nelle grandi ma cosa casperina ha fatto una grande fra l'inter ma l'inter dei morti ma l'inter dei morti scandurra mi piaceva ma chi si è giocato no eh scandurra molto alto il pallone troppo occhio pallone verso romeo non la trova varchetta si termina il primo tempo 2 a 0 per il partizano per il partizano e allora è cominciata la ripresa tra partizano e lampedusa col destro russo c'è fallo che si è giocato però io stavo in top eeeh io non sto più di dieci pochi perché se qui ci vuole però è occhio ciaba se siete consapevole che arriva la vendita dell'anno voglio ma io ho perso la mia sigaretta ma io ho perso poi campese calcio d'angolo parte il cross colpo di testa no arriva varchetta parte il lancio campese rotola ci fanno Carlo dai conti perché è capitato che ci viste c'è lo sto dicendo ma spesso c'è la carne si vabbè ma il secondo sta a noi non lo so dove siamo in eccesso siete a tanti capra sono vinto tutte le partite occhio a pallone ciaba 2 a 1 si respira una ventata di recupero all'avio in Lampedusa riesce a tornare al gol partellino oro cross non suona l'orologio della conline technology quindi rimane 2 a 1 botta di russo si respira è assurdo o si topava non lo so con un po' di tacco di campese con il martone dell'anno qualcosa di all'inoro deviazione calcio d'angolo è tondo è tondo è tondo come Gesù è tondo come Gesù Gesù bambino 4 e 2 l'Atalanta Caldana ancora occhio perché respinge male Catalano c'è gol l'Atalanta vediamo un po' la vediamo 2 a 2 cambia il parziale rimonta terribile 4 a 2 l'Ampedusa ma che stiamo dicendo mi sa che cazzo c'è tanto ma che burro non è più uscito il bravo è accuso perché tenevo molti gol 2-5 a giversare la bolletta no è uscito 6 a questo punto ne esce pure vappone in più salà salà va grande partita ora grande ripresa si è scatenato in Lampedusa vediamo il partizano aia aia sinistro varchetta respinta vuol dire non basta la fai e dopo nel caso sul mio c'è Marigliano ma pensa che l'S questo qua fa il video meglio dell'ono rotto l'ono rotto è la c'era 700 euro è uscito l'anno scorso ci assume devo capire solo come si mettono le impostazioni buone per far aia no è del vantaggio parte Martone solo due uomini in barriera la vuole vedere catalano Martone Romeo varchetta siamo fuori è successo che è successo Lecce è segnato è segnato è segnato è Lampedusa Martone Martone siamo qua siamo qua Martone siamo qua Martone ciao ciao e qua è da bestemmia perché due secondi per cambiare powerbank è ancora gol dell'Ampedusa ora attraversa di Allinoro ha segnato Russo con una conclusione potente 4 a 2 da 2 a 0 che rimonta Lampedusa ciabarete 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 col tacco è uscito un pallone ma voleva stopparla la palla non voleva segnare 5 a 2 incredibile all'Avion vabbè ho preso qualcosa forse è stato un altro pensare siamo usciti ho preso ho preso qualcosa forse il tacco che la prende ma che voleva fare la stopparla no no infatti si è fermato non ha voluto prenderla 5 a 2 partizani in blackout totale Lampedusa col cuore con una incredibile voglia di rivolsa ha ribaltato da 2 a 0 5 a 2 ancora Russo fa correre Ciaba pennella ma ridiamo si va con le mani Martone controllo sombrero poi per Robert dell'attimo ma trova Luca Martone Scandurra poi parte il partizan Capese veloce Capese fitta Capese cagliazza Scandurra codo all'inoro fama cosa? è andato di là hai capito per prendere mettere il telefono in carica Scandurra passa crossa velo di russo castro vinci per romeo castro vinci destro parchetta altissimo chi ne è dio all'inoro dentro russo viene a prendere il pallone c'è che il pallone è pericoloso fama capisce fama non passa è messa partizan l'all'inoro dentro arriva Ciaba poi russo occhio a break tocco dentro rimpallo Scandurra c'è fallo Romeo parte sinistro ciaba Scandurra Romeo fama recupera ciaba pennella no è uno pallone verso Scandurra ora pennella fama vuoto catalano spara via Martone lancio Ciaba la prende Romeo catalano lancia il pallone in avanti troppo avanti Martone palla a Luca Martone intervento di castro vinci con le mani cagliazza Martone cagliazza va lungo linea di via all'inoro carica il suo all'inoro Ciaba taglia castro vinci fama sale lui si allunga la palla Martone recupera Martone prova lui catalano 3 contro 1 ora avanti Romeo passa Romeo dentro all'inoro trova col destro poi campese Romeo Romeo e c'è Clodi Romeo cosa ha fatto archetto svenuto di nuovo 5 a 3 prova russo catalano all'inoro catalano ancora all'inoro rischia sul russo va in verticale Armando castro vinci rischia perde la sfera Ciaba all'inoro Martone chiude cerca una rimessa trova Ciaba anzi russo velo cavallo aia vediamo un po' Martone tiralo giallo punizione vediamo un po' Scandurra l'inoro spinge calcio d'angolo a due minuti dalla fine due gol di vantaggio per il Lampedusa che ha ultimato una rimonta clamorosa Ciaba al volo Martone poi però partita no c'è Cagliazza che lotta sinistro fuori di nulla fama mamma mia Scandurra scivolata stava ammazzando fama campese il taglio all'inoro si inserisce parchetta di pugno la trova ma c'è il pallone stile bowling la Ciaba l'ho messo di lui due ex compagni all'inoro fama circa campese lo trova all'inoro la sponda ma sbaglia la conclusione Romeo è scemartone un in meno Lampedusa sul fondo termina torna a vincere Lampedusa si ferma la rincorsa del Partizan alle zone altissime della Gold League no Fede ma non so se